Ciao, sono Pietro, ho 23 anni ed ho iniziato il servizio civile per il progetto sui beni culturali dell'Università di Genova. Sono iscritto al corso di laurea in storia e ho deciso di percorrere una strada un po' diversa, nell'ambito della comunicazione istituzionale, per rendere più ricca la mia formazione. Il mio obiettivo era avere una prima esperienza del mondo lavorativo e un'infarinatura sulle strutture e funzioni all'interno dell'Università. Il colloquio di selezione era l'ambito che mi preoccupava di più, ma sono stato subito messo a mio agio con domande riguardanti l'interesse sul progetto e comunque avevo una forma molto colloquiale. Il servizio civile è sicuramente un onere di tempo costante, ma avendo orari flessibili, lavoro in smart working, permessi per gli esami universitari, sono riuscito a conciliare entrambi gli impegni. Il carico di lavoro settimanale è di circa 25 ore, nelle quali mi occupo principalmente della rassegna stampa. Inoltre ho la possibilità di partecipare ad eventi culturali organizzati dall'Università. Ho partecipato ad esempio alla Laurea Noris Causa al Premio Nobel per la Chimica a Stefanel. Grazie!